La stagione estiva di Montesilvano torna ad accendersi con un cartellone ricco di eventi. Appuntamenti dedicati a tutte le fasce d'età, spettacoli per bambini, concerti, DJ set, tanto sport con campionati federali, nazionali ed internazionali, e spazio alla cultura con Diorama e Pulpa Festival. Tanti i nomi del panorama musicale, Fabio Concato, Michele Zarrillo, Sergio Cammariere, Edoardo Bennato. Per i più giovani Noemi, i Santi Francesi e Clementino. Musica Revival con i Camaleonti, gli Equipo 84 e i New Trolls. Piero Mazzocchetti e la musica etnopop dei Tazienda. Spazio al jazz con Sara Jane Morris. Infine Ferragosto in spiaggia con la musica house di DJ Ralph.